Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qui con l'unboxing del nuovissimo iPhone 5 Ok ragazzi eccomi qua con il nuovissimo iPhone 5, l'ho preso ieri 28 settembre in abbonamento con la Trem e ho preso il modello nero da 16 GB Quindi innanzitutto andiamo a vedere la scatola qua davanti troviamo un'immagine laterale del nuovo iPhone qua sotto troviamo i normali logo della Apple e qua lateralmente troviamo le scritte di iPhone 5 invece nella parte posteriore della scatola troviamo scritto 16 GB e qua troviamo tante altre informazioni quindi ho già provveduto a rimuovere la plastica sia dalla scatola che dal dispositivo perché l'ho dovuto configurare e ho dovuto inserire la nuova nano SIM quindi andiamo ad aprire la scatola ed ecco qua il nuovissimo iPhone 5 quindi come potete notare ecco qua il nuovissimo retina display widescreen da 4 pollici vediamo appunto che il nuovo iPhone è veramente sottilissimo e infatti soprattutto molto leggero quindi invece nella parte posteriore dell'iPhone troviamo appunto un nuovo design quindi lo vediamo realizzato totalmente in alluminio e queste due parti sono realizzate in vetro invece l'iPhone 4 e l'iPhone 4S nella parte posteriore del dispositivo erano totalmente realizzate in vetro quindi mettiamo un attimo da parte l'iPhone e vediamo cos'altro troviamo nella scatola quindi alziamo questo e qua troviamo innanzitutto le nuovissime cuffie EarPods della Apple poi troviamo il caricabatterie con entrata USB e qua troviamo pure il nuovissimo cavetto Lightning quindi andiamo ad aprirlo ok come potete vedere questa parte è USB e questo appunto è il nuovissimo cavetto Lightning questo è solamente a 9 pin invece quello precedente era a 30 pin quindi come potete vedere è veramente piccolissimo quindi mettiamo tutto questo da parte vediamo cos'altro lo troviamo qua quindi qua troviamo scritto designed by Apple in California apriamo questo qui troviamo innanzitutto il piccolo accessorio per aprire lo sportellino dell'iPhone per mettere la nano SIM apriamo qua e troviamo intanto una guida rapida in italiano con tutte le varie funzioni di questo nuovo iPhone quindi mettiamo questo da parte qua troviamo la stessa guida rapida però in spagnolo qua troviamo altri due piccoli fogliettini dove troviamo delle informazioni sull'iPhone e qua troviamo i due soliti adesivi dell'Apple quindi ricapitolando in questa scatola troviamo l'iPhone 5 il caricabatterie e il cavetto Lightning le nuove cuffie EarPods i due adesivi Apple guide rapide e informazioni quindi adesso andiamo a vedere l'iPhone 5 quindi io già l'ho acceso e l'ho configurato infatti come potete vedere ho la batteria a 1-1% perché innanzitutto se voi comprate l'iPhone la prima cosa che dovete fare è scaricarlo completamente e poi dovete fare una ricarica di minimo 12 ore quindi questo qua appunto è il nuovo iPhone come potete vedere ha lo schermo da 4 pollici però in questo video non vi faccio vedere altro perché appunto questo era solamente un breve video unboxing quindi in questi giorni arriverà la mia recensione completa del nuovo iPhone quindi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando di iscrivervi al mio canale perché arriveranno tanti altri video su questo iPhone 5 e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi al mio primo o secondo canale diventate fan della mia pagina di Facebook seguitemi su Twitter seguitemi su Instagram e visitate il mio sito tutti i link come al solito li trovate qua sotto ok ragazzi io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao